Sette segni che non sei in grado di amare. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta e sono qui su YouTube perché credo fortemente in ciò che diceva James Himal, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza dell'analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo d'amore e in particolare della capacità di amare. Cos'è la capacità di amare? Tutti siamo in grado di amare? Né, sì e no, però dobbiamo metterci d'accordo su cosa significa amare. Amare, da un punto di vista psicologico, significa prendere delle scelte nella vita basandosi sul noi, sul io e te. E quindi delle scelte che possano accrescere il noi e l'individuo presente nel noi. Questo significa amare, perché amare, stare in relazione, significa individuarsi, crescere o discendere, dipende dal punto di vista dal quale lo guardiamo, crescere nella vita, discendere nell'interiorità, fare emergere ciò che abbiamo detto, fiorire e scavare al contempo nella propria interiorità. Se l'amore, la relazione ci permette di fare questo è amore, se no, no. Se ci permette di fiorire è amore, se no, no. Quindi la capacità di amare è di compiere tutte quelle scelte che si basano sul noi, un noi costruttivo, ma non è semplice, perché per prendere delle scelte in base al valore noi significa che dobbiamo spesso soffrire, perché l'amore non è benessere. L'amore può procurare benessere a lungo termine, ma non è benessere. Tutte le volte che noi proviamo o compiamo delle scelte su un valore interiore, accresciamo la nostra autostima, accresciamo il nostro individuo, accresciamo il noi in questo caso, ma può capitare che ci facciamo male. Come diceva Wungen Bull Craig, il fatto che noi associamo l'amore al benessere è un grande pregiudizio e crea un sacco di buchi relazionali, come ad esempio prendere delle scelte affinché l'altro non ci lasci, non perdiamo l'altro, sta roba è terribile. O prendiamo delle scelte per coltivare il nostro benessere, sta roba è distruttiva per me, per l'altro e per la coppia. Vediamo quali sono i sette segni che non sei in grado di amare e quindi di prendere delle decisioni in base al noi. Non hai mai avuto una relazione a lungo termine, e per relazione a lungo termine intendo una relazione che è durata più di un anno, perché finché, come dicono gli studi scientifici, finché un anno è innamoramento, è frequentazione. Dopo un anno scattano i meccanismi dell'amore, anche cerebrali, e quindi dei meccanismi più faticosi, che implicano delle scelte. Intorno a un anno ovviamente in alcune relazioni scattano prima, in alcune dopo, ma intorno ad un anno. Se non hai mai avuto una relazione più lunga di un anno, o in cui sono scattati dei meccanismi concreti d'amore, significa che non hai la capacità d'amare e che la devi coltivare. Nei litigi sei distruttivo e non costruttivo. Ci sono due tipi di litigi, litigi costruttivi e distruttivi, ne ho parlato già in precedenza sul mio canale YouTube, potete youtubarli. Se nei litigi sei distruttivo, non hai la capacità d'amare, perché amare si fonda anche sul litigio costruttivo e non distruttivo, perché il litigio ci permette di resettare noi stessi la coppia, di accrescere noi stessi e la coppia, e ci permette di creare spazi all'interno del quale possiamo inserire del nuovo che faccia bene a tutti e tre gli elementi di una coppia. Io, te e la relazione, perché sennò sembra che c'è il terzo no. Ti sottrai, ti sottrai alla coppia, ti sottrai alla relazione che sta sempre lontano, c'è una sorta di chiusura all'intimità, alla tua intimità. E allora si prendono sempre decisioni separate, io e te, io ho te. Allora non ci si mischia mai con le emozioni, io ho le mie emozioni, tu e le tue. Io ho la mia individualità e tu la tua. Va tanto, no, sta argomentazione di moda oggi, ecco perché poi abbiamo tanto narcisismo nelle relazioni. Proprio perché c'è questa separazione netta tra me e te, no, ma io conservo la mia individualità, tu la tua. Sono tutte cazzate. La relazione è un contenitore in cui ci si mischia e questo mischiarsi deve essere utile ad accrescere la mia individualità, non un contenitore dove stiamo separati tipo acqua e olio. Quella n'è relazione. Quella è stare vicini, accanto, però senza stare in relazione. Nella relazione ci si mischia, nell'amore ci si mischia. Ci pensate che sono separate? Se separate le cose, state coltivando l'anarcisismo. Una buona relazione ci si mischia e in quel mischiarsi si vede ancora di più la differenza dei due, perché accresce l'individualità, senza distruggere la coppia. Quindi se ti sottrae all'altro, se c'è una chiusura dell'intimità all'altro, ci possono essere diversi meccanismi di questa chiusura, sessuale, erotica, emotiva, di pensiero, di vita quotidiana, significa che non sei in grado di amare. Le persone vicine a te si spengono. Ogni volta che entri in relazione, la persona vicina a te si spengono totalmente. Non fioriscono. E questo significa che non sei in grado di amare. Perché amare significa anche innaffiare l'altro nella relazione. Fargli spazio, sostenerlo in una crescita personale. Se ciò non accade, significa che non sei in grado di amare. O generalmente, o in particolare, quel tipo di psiche. Ricevi e non dai. Ricevi tanto nella relazione. Anzi, dopo cinque anni di relazione, ti accorgi addirittura che tu sei fiorito e l'altro no. Hai ricevuto tanto, ma non hai dato un cazzo. Questo significa che non sei in grado di amare. Oppure dai troppo. Anche dare troppo significa non amare. Non essere in grado di amare. Perché se io do troppo, significa che do senza ascoltare ciò che serve esattamente all'altro. E se metto in atto questo meccanismo, farò appassire l'altro, se do troppo. Quindi annullo anche me stesso. E se annullo me all'interno della relazione, non sono in grado di amare. Perché se io amo e mi amo, significa che io non annullerò mai me stesso all'interno della relazione, ma mi userò all'interno della relazione. E infine non sei disposto a cambiare. Io sono fatto così. Perfetto. So che non sei in grado di amare. Puoi esserlo. Ma so che non sei in grado di amare. È vero che ognuno di noi è fatto in un certo modo a livello caratteriale, ma quando entro in contatto con qualcuno, come diceva Jung, ogni relazione, in ogni relazione sono due sostanze chimiche che entrano in contatto tra di loro e producono cambiamenti. E se ciò non avviene, non ci si sta amando. Se ti è piaciuto il video, se ti è venuto a voglia di amare, metti un like, iscriviti al canale, condividi il video con chi non è in grado di amare, accendi il campanino e le notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao! Vi piace questa maglietta di Taz che rincorre Willy il coiote? Secondo me Taz vuole fare cose sozze con Willy e Willy scappa. Questa è la mia teoria. Questa è la mia teoria.